Bentornati su MyFootballGersey. L'avete riconosciuta? Questa è la maglia dell'Olanda del 1988-89, la maglia di Van Basten. La maglia di Van Basten. Maglia bellissima. Da quando ho iniziato a fare le recensioni delle maglie retro, questa è una maglia che non poteva mancare. Da bambino ricordo di aver adorato questo calciatore. Nella mia classifica questa prende 5 stelle, se non altro per i ricordi che mi porta alla mente. Il costo lo vedete qui sopra? Estremamente vantaggioso, non mi voglio dilungare oltre. Per una maglia fatta così bene, che arriva anche con dei buonissimi tempi di spedizione, questa è arrivata in 22 giorni, voglio dire, un'occasione da non farsi sfuggire. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi voglio dire ancora più conveniente. Ora vi lascio la parte finale. Prima però lasciateci un grande like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla farlo e a noi ci permette di avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Anna. Grazie. Grazie.